piano piano festival è musica teatro arti performative è un pianoforte che va a spasso nei giardini delle case del saletto un'esperienza di bellezza in una dimensione intima a stretto contatto con gli artisti tra un calice di vino e ottimo cibo ci si incontra ci si conosce e ci si riconosce quattro serate a luglio due setta sera artisti di respiro internazionale piano piano festival si costruisce da basso e punta molto in alto nasce dal coraggio di creare unendo il nostro lavoro al vostro sostegno come partecipare contribuisce al crowdfunding o vieni a trovarci se sei un privato prenota la tua serata in festival se sei un'azienda entra a far parte dei nostri sponsor o dona semplicemente a sostegno della bellezza di questa iniziativa tra i suoni e dei profumi dell'estate piano piano festival sostieni la bellezza sostieni la bellezza 16 Sostieni la bellezza sostieni la bellezza sostieni la bellezza